buonasera amici ascoltatori benvenuti al moon talk rubrica jurassic parma e mi sono accorto che tra l'altro è due o tre volte che dico rubrica safe parma è una reticenza del passato questa volta voglio dire giusto almeno questa volta ok noi siamo andrea e francesco in regia che saluto caramente tra l'altro da me è più o meno primavera da francesco è inverno va così oggi comunque forse il tuo abbigliamento è più consono al clima di questa stanza in ogni caso non siamo qui per parlare di temperatura anche se è una cosa che ci aggrada sempre fare perché non facciamo un programma sul meteo sul meteo esatto nubi che vengono da questa parte verso sera va beh a parte questo parliamo invece di quella apriamo parlando di quello che sarà la prossima partita del parma infatti inauguriamo questo intervento parlando dell'alto vicentino quindi noi abbiamo titolato veni vidi alto vici come giulio cesare con la maglia del parma che sarà un po quello che speriamo che il parma faccia domenica prossima come al solito speriamo di non portare sfiga con questo titolo è venuto in mente dopo poteva portare sfortuna speriamo di no comunque è un po il parma che ci aspettiamo il parma che va nella partita contro l'alto vicentino e praticamente domina la partita magari fa una partita bella è una partita sicuramente importante in cui il parma si dovrà confrontare con forse l'unico avversario a questo lì appunto all'altezza di questa formazione e quindi sarà un bel banco di prova soprattutto in chiave futura perché se fosse questo campionato cominciavo a pensare che possa andare bene per l'anno prossimo comunque testare il parma in una gara vera contro una squadra comunque che potrebbe essere da bassa zona di lega pro è comunque una cosa importante per capire quali aggiustamenti si potranno fare dove poter migliorare soprattutto insomma quindi è una partita importante anche in chiave futura sicuramente sarà una partita divertente esatto finalmente perché qui ci si annoia ti sei annoiato ma poi ne parleremo della partita di domenica scorsa partita forse che non è determinante per il parma e finita risultato ma è sicuramente determinante per l'alto vicentino infatti l'alto vicentino perdendo avrebbe un distacco che comincierebbe essere notevole e quindi insomma i giochi per loro comincierebbero essere veramente difficili poi è vero non è finita finché non è finita tutte queste frasi fatte però insomma che loro comunque non perdono quasi mai no sono una squadra molto forte per la categoria ovviamente dal parma comunque ci si aspetta che faccia il parma quindi se non dovesse arrivare a un risultato positivo un po' storceremo il naso ce l'ha dire quindi vediamo un po' quella che è la situazione insomma in casa dell'alto vicentino quindi un match che vale una stagione in casa dell'alto vicentino ti aspetterai cioè per loro vale una stagione come abbiamo detto per noi ma anche per noi quindi dici che se dovesse arrivare comunque un pareggio o una sconfitta sarebbe una un problema la sconfitta sicuramente si arrivarebbe a 4 punti si sono sempre più di 3 punti di vantaggio che hanno il loro valore però il distacco insomma è importante mantenerlo ok quindi vediamo un po' quella che è la situazione del caso dell'alto vicentino io ho titolato attenti a quei tre vediamo subito il titolo occhio a quei tre infatti i tre giocatori che ho individuato come giocatori pericolosi per la partita possono essere adesso stando a squalifiche credo che comunque giocheranno tutti i tre adesso ho controllato quasi tutti mi sembra che non sia nessuno sia difidato ok c'è solo perna che entra in difida credo questa partita ma non la salta c'è stato un piccolo giallo i giorni scorsi in cui si pensava che perna avrebbe saltato la partita contro il parma ma in realtà non la salta quindi giocatore numero uno a temere è rafael odogvum esatto nigeriano insomma un giocatore che gioca in attacco ovviamente 90 kg ma cos'è classe 91 ha peso 90 kg perché è anche alto c'è un 88 90 kg è alto come me ma pesa tipo 30 kg in più di meno ok ma perna è 4 cm in meno e ha 15 kg in meno è un panzer praticamente è un gran bel giocatore che insomma anche l'ultima partita ha segnato segna spesso e sicuramente a tenere sott'occhio secondo giocatore da tenere sotto osservazione è sicuramente armando perna scusatemi armando perna che ovviamente è un ex giallo blu che ricordo hai francesco di perna nulla nessuno era insomma era stato preso in una delle stagioni forse più coupe del parma come difensore che doveva salvare doveva blindare la difesa non è stato così ha giocato credo 6 7 partite poi non si è più visto praticamente al tardini ed era tornato subito al modena del quale poi diventato bandiera ha giocato un sacco di partite nel modena giocatore comunque d'esperienza un lusso per la categoria e certamente insomma sarà un difensore da tenere sotto in considerazione che magari sarà molto più bravo degli ultimi che stiamo affrontando gli ultimi difensori che abbiamo affrontato terzo giocatore da tenere sotto osservazione è falconieri tale vito falconieri classe 86 non so se forse ti ricorda qualcosa questo nome è un giocatore che è tipo 4 anni che era faceva parte del parma fc lui praticamente però non ha mai giocato ovviamente nel parma fc ma è stato rimbalzato nelle varie squadre di bassa categoria ma comunque faceva parte faceva riferimento al parma fc dopo il fallimento della nostra società e molti altri insomma esatto ha trovato un nuovo futuro nell'alto vicentino e sta facendo molto bene anche lui lo chiamano falco e tra l'altro idolo dei tifosi falco facci volare falco portaci in alto è un altro attaccante da tenere veramente in considerazione è un discreto giocatore tutta la squadra in generale dell'alto vicentino arriva questa partita molto carica come anche molto carica arriva la squadra del parma c'è da dire che sono tutti molto molto focalizzati e non vedono l'ora veramente di confrontarsi contro questo avversario ogni giocatore intervistato ha fatto presente che vabbè non sarebbe un dramma perdere ma comunque che ci tengono tantissimo a affrontare questa partita che non vedono l'ora continuando a parlare di questa partita parliamo anche un attimo dello stadio perché lo stadio è lo stadio dei fiori di valdano abbiamo un piccolo video che ho trovato sul sito del facebook della pagina facebook dell'alto vicentino filmato da sandro solinas che ringrazio quindi lui fa vedere le condizioni del campo pochi giorni fa bisogna dire che sembra veramente in ottime condizioni uno stadio bello poi coi monti paesaggistico molto inglese molto inglese uno stadio tipo da fifa sai tipo stadio di periferia di fifa stadio seconda categoria molto bello davvero è all'inglese vecchio all'inglese del 1800 cioè con i pali che tengono sulle tribune carino carino in questo stadio saranno a disposizione 800 posti per i tifosi del parma e che però sono andati praticamente credo tutti esauriti in otto minuti 700 biglietti sono andati via e gli ultimi biglietti credo saranno venduti sono già stati venduti a breve e quindi insomma chi non avesse biglietto mi consento di dire di non andare a valdano perché insomma rischierebbe veramente di rimanere fuori dallo stadio io ad oggi a questo momento in cui stiamo registrando ho appena letto che mercoledì sera ore 7 si allora hanno venduto 700 biglietti in sette minuti e i restanti 100 li hanno già prenotati quindi c'è quasi niente da fare non so se andando là ci possono acquistare si sta pensando che l'alto vicentino probabilmente potrebbe vagamente aprire qualche altro settore a riservare le tifosi del parma però ad oggi niente è certo quindi non conviene veramente recarsi a valdano per vedere questa partita se non sia il biglietto se si vuole seguire la squadra lo stesso fatelo però insomma non lo so magari troviamoci tutti in un bar con un mega tabellone insomma e guardiamo da lì quindi insomma detto questo ho l'impressione che se sarà vittoria sarà una vittoria veramente importante che ci lancerà insomma verso la vittoria finale di questo campionato se sarà pareggio vabbè si può anche accettare un pareggio contro l'altro vicentino se sarà sconfitta invece francesco potrebbe esserci qualche piccola increspatura no la sconfitta a fine ci sta penso sia l'unica una delle poche squadre che potrebbe metterci in difficoltà anche se l'andata non è sembrato no 2-0 abbiamo vinto infatti partita combattuta ma alla fine 2-0 secco però insomma c'è da fare un dramma ok quindi non facciamone un dramma però comunque potrebbe esserci qualche picco di crepa se possiamo perdere noi possono perdere doppiamente loro secondo me ma non per me mi piace come pensi se io posso perdere tu puoi perdere quindi io ti posso battere è bella questa cosa sì 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 è giusto è giusto è giusto detto questo insomma adesso parliamo invece di quella che è stata la partita di domenica scorsa che partita hai visto contro la Fortis Juventus ho visto solo una metà metà partita perché dalla curva come al solito si vede solo un tempo no c'è stata una partita più cioè i gol sono arrivati più tardi per fortuna quindi sei un po' appassionato alla questione sì un po' sì poi dopo è finita presto anche questa però ok quindi una partita già scritta come vi ho detto sì c'era molto tifo per Matteo Neguazzo a cui non so ho sentito proprio il pubblico si sta scaldando su questo giocatore a meno io ci tengo che lui faccia gol perché lo vedo che è frustrato che ci sta si è impegnato tanto per cercare di fare gol ma si continua così cioè poi arriveranno insomma ok e mi è stato segnalato anche una bellissima prestazione non me l'hai segnato non me l'hai segnato te però adesso te lo chiedo mi l'hai segnato tanti è una bellissima prestazione da parte di Miglietta di Miglietta sì beh l'ultimo gol è sempre l'ultimo gol è stato un gol da serie B ok perché è stato fatto a due giocatori comunque hanno secondo me qualità superiori col piede raccontacelo un po' come è stato questo gol e allora il primo passaggio in mezzo verso Miglietta che fa il velo Guazzo con di prima fa un pallonetto verso il centro con Miglietta che taglia dentro e gol di prima bellissimo ecco insomma insomma gol di classe insomma Miglietta che sta riprendendo il ritmo partita sta cominciando a convincere e forse a questo punto lui ne aveva ragione a continuare a schierarlo insomma lui è molto lento Miglietta però comunque secondo me ha delle ottime qualità sta crescendo comunque visibilmente scusate ci può stare anche la difficoltà nel ambientarsi in una categoria inferiore in una squadra superiore di una categoria inferiore è una cosa strana i tempi i movimenti magari sono diversi quindi anche Corapi come al solito ennesima prestazione positiva trascina la squadra ancora una volta sempre meglio addirittura io credo che ormai abbia raggiunto un livello top che non è possibile far meglio insomma però ci sta veramente sempre sorprendendo Barai ha tenuto in scacco fatto il gol più brutto del mondo spiegacelo spiegacelo ah quello il non mi ricordo il secondo il terzo il terzo credo quello a porta vuota è stata una cosa veramente orribile raccontala anche per chi non l'ha potuto vedere allora ho cross in mezzo di non vorrei sbagliarmi Messina o dalla fascia destra immagino sia lui perché ero dalla curva dove si vedeva un tubo e il portiere esce a vuoto lui con tutta la tranquillità del mondo scivolando calcia la palla di due all'ora il difessore la guarda entrare insomma ormai erano scoraggiati anche loro cadendo all'indietro poi ok invece adesso per commentare la partita e per darci le tabelle di top e flop in via del tutto eccezionale con grande felicità da parte mia abbiamo un ospite un amico Luca Russo di Stadiotardini.it che speriamo tra l'altro presto di poter ospitare direttamente in studio lui insomma vuol venire anche in trasmissione da noi non so perché tutti questi personaggi vogliono così tanto ragazzi è una cantina no in realtà io sono veramente felice ho un po di pudore perché insomma voi vedete questa scena che è insomma più o meno bella è solo quel muro però ragazzi è solo quel muro che bello il resto è una cantina comunque va bene ok ascoltiamo l'intervista a Luca Russo che ringraziamo ancora una volta e al quale vanno i miei testati di simpatia più profondi vai Luca allora in diretta dalla sala stampa del Tardini con Luca Russo anche l'emozione di essere qua sopra insomma grandi campioni emanenti sono stati qui quindi devi essere felicissimo sto profanando un luogo sacro esatto allora ti chiedo subito le impressioni sulla partita e insomma come hai visto questo Parma credo bene il 5 a 0 la dice lunga sulla differenza tra il Parma e la Fortis Juventus l'unica perplessità che ho avuto sui primi 15-20 minuti ok perché il Parma mi sembrava leggermente statico rispetto all'avversario infatti anche Polboni in conferenza stampa ha parlato di particolari da limare in vista del prossimo big match per il resto però il Parma poi ha dominato, ha controllato la partita ha fatto 5 gol partita divertente divertente per quanto mi riguarda non tanto perché l'avversario era abbastanza si sapeva già come finiva insomma esatto sì l'avversario era abbastanza così debole quindi c'è stato poco pepe, poco sale ok in questa partita va bene se ti chiedo allora quali sono stati i migliori sai che io di solito faccio i tre top, i tre flop i tre flop sarebbe un omicidio farli adesso oggi sì è particolarmente complicato trovare i migliori cioè li troviamo forse nella squadra avversaria tra i migliori in campo il migliore forse è Miglietta 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 sì sta crescendo sta crescendo l'ultima partita l'ho visto bene questa continua sia in termini di manovra, di gestione ritmo e palla sia in termini di carattere, di personalità però ho visto bene anche Mazzocchi sebbene sia entrato comunque a punteggio ormai a vittoria già acquisita ha fatto un paio di numeri che denotano grande tecnica almeno per la categoria e in ottica Lega Pro quindi il tuo secondo migliore è Mazzocchi, il tuo terzo il mio terzo migliore è Lucarelli Lucarelli perché ha fatto una discesa sul primo gol spettacolare spettacolare droba da Messi, un misto tra Messi, Ronaldo e Higuain mettiamola così spettacolare Lucarelli da Serie A più che da Lega Pro o Serie D ecco sei d'accordo Lucarelli guarda lui ovviamente deve dire assolutamente sì beh certo la discesa di oggi ah no fake quasi un Lucarelli in stile tomba direi in stile tomba ah è giusto ho visto anche la literatura il freddo esatto allora ti ringrazio faccio un saluto grazie a voi alla nostra trasmissione ecco va bene abbiamo fatto la pace abbiamo fatto la pace io e lui ma io e lui faccio un saluto mi dono come bacio esagerato esatto esatto questa poi la mettiamo perché dopo ti si rivolterà contro nei momenti no sto scherzando allora va bene dai un saluto grazie Luca Russo per aver partecipato grazie a te ciao e grazie anche a te allora dietro le quinte certo qua c'è sempre la lunga manus nascosta esatto ok ringrazio anche Gabriele Maio che insomma era dietro le quinte e osservava l'intervista ringrazio Luca Russo e quelli sono stati appunto vediamo un po' quelli che sono stati i suoi top e flop li ripetiamo nella schermata per farli vedere per renderli più capibili a tutti per quelli che non hanno per non udenti non lo so per quelli che non hanno visto il video insomma lui ha detto crocifisso miglietta d'accordo Francesco miglietta aspetta eh accendi il microfono miglietta è quello che si prende un po' più insulti però io lo god quindi ok quindi questa volta lo mettiamo top incredibilmente sì sì Pasquale Mazzocchi secondo top Mazzocchi sì è entrato è piaciuto vabbè era il più fresco di tutti quando è entrato quindi non poteva far male ma comunque ha delle buone qualità attaccante esterno ha giocato bene sì 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 assolutamente Alessandro Lucarelli terzo top incredibile per la discesa prorompente alla Messi Cristiano Ronaldo è stato detto no il più bello Alberto Tomb ha fatto uno slalom fra tre o quattro tutti dicono ma passala passala poi è dato avanti e ha fatto quello che ha fatto ok flop non abbiamo messo nessuno Luca Russo ha detto tutta l'altra squadra vabbè mi dispiace vabbè non c'è un po' di avevano importanti limiti tecnici ecco bisogna dire comunque sono veramente felice che questa classifica top e flop sia fatta anche da altre persone non solo da me così insomma e così le critiche non le prendo neanche solo io comunque abbiamo fatto pace perché sai che lui ha fatto un altro editoriale in cui ha commentato quello che vi abbiamo detto noi insomma c'è stata però comunque ovviamente sono discussioni tra amici quindi non c'è mica nessun problema assolutamente il flop invece lo mettiamo noi Francesco c'è un flop molto in simpatia cioè non vogliamo però l'unico flop che ho trovato in realtà c'è un flop in questa domenica è stato questo signore che non so se tutti lo conoscono di faccia ok questo è lo speaker del Tardini Francesco Bassi Francesco Bassi personaggio storico importantissimo nel Parmense insomma ha avuto la discoteca Astrolabio in gestione lui e la sua famiglia per anni gestisce il campus industry che sponsor è stato anche vagamente nostro capo per un piccolo periodo a CU e comunque questo signore si è un po' distratto domenica domenica vabbè ma ci sta ma simpaticamente ovviamente non è successo niente di grave quante stagioni è che fa lo speaker è un bel po' sì comunque si è distratto era già successo in Parma Milan dell'anno scorso vabbè ma una volta ogni tre anni dai si è distratto e cos'è che ha fatto Francesco cosa ha fatto si è perso un po' di gol ma secondo me si è confuso soprattutto perché di solito Melandri c'ha il 7 di solito oggi aveva il 9 quindi secondo me ha confuso un po' le cose quindi c'è una spiegazione la sua è un errore da eccessiva conoscenza del Parma e poi dai diciamo il calciatore ha tutti i capelli uguali si confondono dall'alto poi lui è in alto in alto quindi non era facilissimo e poi ha fatto partire anche la musichetta sì sì ha il gol annullato di Guaz bellissimo il gol di Guaz è annullato è stata una cosa veramente fantastica però nonostante la palla fosse calcio di punizione per fuori gioco la samba è partita lo stesso ha assegnato tutti no però è stato divertente ha regalato un momento insomma di colore alla domenica è stata comunque una bella cosa sicuramente la prossima partita starà molto più attento non c'è mica nessun problema e salutiamo Francesco in maniera caramente ecco abbiamo fatto i top e flop abbiamo detto il nostro piccolo flop che qui non è un flop è una cosa simpatica in chiusura una piccola risposta ai commenti la settimana scorsa perché non so se lo sai Francesco siamo stati silurati come non lo so neanche l'Andrea Dori è andato a fondo così tanto quanto il nostro intervento la settimana scorsa e ci hanno criticati molti perché abbiamo intitolato come potete vedere più setti meno crolli e si è scoperto che setti secondo molti è un è la stregua di è un delinquente in realtà no secondo noi no e non c'è assolutamente nessuna prova che lo dimostra ci sono alcuni articoli poco edificanti nei suoi confronti però non capire adesso nella serie ad oggi dove arrivano i fondi non è veramente facile perché nessuna squadra cioè di nessuna squadra sai esattamente dove arrivano i fondi e sai la sua provenienza quindi sono state dette cose che non possono essere totalmente insomma accertabili e quindi non è veramente una cosa cioè non avete le prove per poter dimostrare una cosa del genere e io dico sempre che uno è innocente fino a prova contraria quindi per la sua capacità di reagire e di reagire in questo momento specifico per noi era una persona che meritava comunque stima perché a prescindere dalle cose che hanno portato la squadra a essere in questo momento la sua decisione in questo momento è veramente importante infatti ha detto io ho queste risorse io ho queste capacità piuttosto che fare un passo più lungo della gamba come magari è stato fatto in passato da una squadra che c'è molto cara io preferisco piuttosto magari retrocedere ma comunque avere la possibilità di salvare la squadra magari poter cedere la squadra ad un'altra persona oppure avere una vendere a metà la squadra ad un altro investitore o comunque poter riprogrammare una risalita piuttosto che magari tentare di negare l'evidenza di insomma di dire no va tutto bene la squadra è sana quando in realtà non lo è e magari poi dopo trovarsi in braga di tela con la società che fallisce quindi soprattutto per questo per questo gesto io lo ritengo comunque degno di nota insomma è una morale manzoniana di un si guarda a me finché non mi tocca Parma quartiere San Lazzaro zona via non mi interessa va bene no ma ognuno ha la sua opinione no no ovviamente poi è stato bellissimo potersi confrontare anzi ringrazio Luca Russo e Tegoni per aver pubblicato due interventi due articoli che citavano quello che poi abbiamo detto noi quindi è sempre bello essere d'ispirazione per qualcuno essere una riflessione per qualcuno per poter riflettere su quello che non va nel calcio d'oggi detto questo io vi auguro una bellissima settimana vi do appuntamento la settimana prossima il mercoledì sera verso mezzanotte di solito usciamo se non ci sono problemi con il Moon Talk rubrica Jurassic Farm da Andrea e da Francesco un augurio di una buona settimana e soprattutto quelli che possono tutti a vedere il Parmalto e copritevi che fa freddo esatto però copritevi che fa freddo